amici carissimi ciao a tutti mi chiamo Tatiana siete sul canale Tati Italia benvenuti o bentornati al mio canale sono contenta di partecipare al terzo ricettario in collaborazione con altri canali a me ma penso anche a voi piacciono le ricette semplici e gustose oggi vi propongo di preparare una torta deliziosa di meli con yogurt ma senza uva ora iscrivetevi al mio canale, attivate il campanello e seguitemi in vicino grazie a tutti 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 grazie a tutti